L'amore per questa musica dà una vita, da tantissimo tempo e ci sono delle cose meravigliose che abbiamo scelto di Vincenzo addirittura dall'inizio del Novecento fino al periodo pre-boss, ovviamente fino agli anni Cinquanta. Sicuramente la fisarmonica è un elemento fondamentale, la motivazione di scelta soprattutto degli autori come appunto Dominguinius, Sivuca, visto che appunto vince il mio compagno di viaggio e un fisarmonicista, anche perché la fisarmonica pochi sanno essere uno strumento fondamentale per la musica popolare brasiliana. Cicu Buarchi, Niotto Nascimento, Sivuca, Dominguinius, Carlos Lira, Antonio Maria, ogni brano è a se stante, è un pezzo di storia a se stante del Brasile. Comunque sono tutti focos, sciorus, frevus, un samba solamente di Zechetti e poca bossa, c'è quasi niente, anzi, nessuna bossa. Siamo diventati complementari, sentiamo i nostri respiri anche se praticamente non ci guardiamo, c'è un interplay altissimo e pazzesco. Questa cosa è venuta fuori in maniera abbastanza ormai fluida, perché l'iter con cui scegliamo i brani, con cui ci organizziamo negli arrangiamenti, con cui proviamo, con cui suoniamo insieme, è così sciolto, così naturale, che è venuto fuori in maniera molto, molto, molto naturale.